La storia della Fiorentina 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 Invece di Odi crossare Cercano tirato forte Primo pallo in alto E la palla entrata nel set Diciamo quasi Sono cose che Diciamo portieri Difficilmente possono parare Quando tu tiri alto sul primo pallo La Fiorentina La Fiorentina Fu la prima squadra italiana A vincere una Coppa europea E lei segnò in quella edizione Della Coppa delle Coppe Sei gol Complessivamente Sì No Il mio mestiere Era di segnare Quello Sì Purtroppo Non purtroppo Io Facevo anche gioco Diciamo Di squadra Però se c'era da Tirare in porta Tiravo Lei Milan fu protagonista Anche in Coppa Italia Nella finale contro la Lazio Vinta 2 a 0 Segnò Un gol Insomma Fu una stagione eccezionale Per lei e per la Fiorentina Io sono stato protagonista Nei momenti decisivi Nelle coppe decisive Nelle finali decisive Lui era protagonista Quasi tutte le domeniche Perché lui Una domenica sì E la quell'altra pure Faceva gol Questo signorino qui E quindi con lui Non era mai finita la partita C'era sempre la speranza Di vincere la partita Anche se eravamo 0 a 0 Fino all'89 Lui potreva trovare Il guizio vincente Che era sotto questo aspetto Era eccezionale Ho avuto Sono stato bravo Anche nella finale Coppa Italia Che avevamo fatto Col primo Petris E secondo io Contro la Lazio Insomma E secondo io E secondo io E secondo me A presto E secondo me